E disegniamo i numerini con il naso da 0 a 9. Ho una lavagna davanti al naso e disegno i numeri. E mi fermo e disegno una linea verticale in su e giù con il naso. Quando vado in giù il mento va verso lo sterno e premo leggermente la nuca nel pavimento. E fermo il movimento. Faccio cadere la testa verso destra e vado su e giù con la spalla sinistra. La spalla verso l'orecchio sinistro e poi cammino, cammino, scendo. E vado su e cammino, cammino, scendo. E su e cammino, cammino, scendo. E su, cammino, cammino, scendo. Porto la testa in centro, sento la differenza tra la parte sinistra e la parte destra del collo e delle spalle. Giro la testa verso sinistra e faccio la stessa cosa. La spalla verso l'orecchio. Cammino, cammino, scendo. E di nuovo su. E cammino, cammino. E su. E cammino, cammino. Riporto la testa in centro e sento se le due spalle sono ritornate uguali. Porto tutte e due le mani al soffitto, i palmi che si guardano. Porto tutte e due le mani verso il soffitto, stacco le scapole dal pavimento, allontano le scapole. Butto fuori, appoggio tutte e due le scapole al pavimento, forte, forte. E vado su, allontano le scapole e appoggio le scapole. E vado allontano e avvicino. E allontano e avvicino. Porto le mani dietro la nuca. Inspiro, apro bene i gomiti, appoggiandoli al pavimento senza inarcare la schiena. Tengo bene la schiena appoggiata. Butto fuori, unisco i gomiti davanti al naso o alla fronte, dove arrivate. Inspiro, allargo bene i gomiti, resisto con gli addominali senza inarcare la schiena. Butto fuori, chiudo. Inspiro, apro e butto fuori, chiudo. Inspiro, apro e butto fuori, chiudo. Rimango con i gomiti chiusi, sollevo la testa con la forza delle braccia, lasciando la testa completamente pesante nelle mani. E ruoto la testa a destra e a sinistra. Un piccolissimo stretching delicato, senza tirare troppo. Ruoto. E ruoto. Come se le mani fossero un tessuto di stoffa. E tiro prima un angolo e poi l'altro. Rilasso completamente la testa nelle mani, eh. Il collo non deve fare alcuna fatica. E rilasso, riapro i gomiti, rilasso le spalle, lascio le braccia lungo il corpo. Ragnetti. Porto sulle spalle verso le orecchie, butto fuori, cammino con le mani verso i piedi, e poi chiudo le coste, tengo gli addominali. Inspiro sulle spalle verso le orecchie, butto fuori, le mani camminano, le scapole scivolano nel pavimento, chiudo bene le coste. Inspiro, salgo. e fuori, scendo. Inspiro, salgo. E fuori, scendo. Inspiro, salgo. Fuori, scendo. Svuoto bene la pancia, chiuso le coste, lascio le mani lontane per portare il più giù possibile le scapole. Le ginocchia piegate, i piedi aperti come il bacino, bene appoggiati, anche le dita bene aperte e appoggiate. Ante, retroversione del bacino. Ruoto il bacino, avanti e indietro. Appoggio il sacro e lo porto verso il soffitto. Inspiro, ante, butto fuori dentro l'ombelico, retroversione. Inspiro, ante, butto fuori retro. Inspiro, ante, butto fuori retro. Inspiro, ante, butto fuori retroversione del bacino. Lascio il bacino nel neutro, quindi immagino di avere una ciotola d'acqua sulla pancia e l'acqua deve essere completamente tutta sullo stesso livello. Porto il ginocchio destro al petto, lo prendo con tutte e due le mani, i gomiti sono larghi, butto fuori l'aria, tiro il ginocchio verso il petto. e rilasso, e tiro, e rilasso, e tiro, e rilasso. Cambio gamba, porto la sinistra al petto, e vado, tiro, e rilasso. Occhio a non sollevare le spalle, mentre tiro, e sempre attenzione alla gamba che rimane sotto, che deve essere perfettamente in linea col bacino. E tiro, e lascio, ultimo tiro, e lascio. Appoggio di nuovo le mani per terra, ginocchio destro al petto, stendo la gamba al soffitto, tallone che spinge, e piego, e due, e piego, tre, piego, quattro, piego, cinque, piego, sei, rimango con la gamba su, faccio quattro rimbalzini con la gamba verso la spalla, uno, due, tre, quattro, piego, stendo tutte e due le gambe, e sento la differenza tra il bacino, la parte destra e la parte sinistra del bacino, e tra la gamba destra e la gamba sinistra. E poi facciamo tutto dall'altra parte, ginocchio sinistro al petto, stendo la gamba al soffitto, uno, piego, due, tallone che spinge lontano, lontano, tre, quattro, cinque, e sei, rimango, quattro rimbalzini, uno, due, tre, quattro, piego il ginocchio, stendo le gambe, e sento come appoggiano sia il bacino che le gambe. Ripiego tutte e due le gambe, appoggio le mani sulla pancia, piedi ginocchia uniti, i gomiti aperti bene, le spalle rilassate, inspiro, gonfio la pancia, quando butto fuori, sgonfio la pancia, alleggerisco la testa, faccio passare un foglio di carta sotto la testa, e rilasso, inspiro, gonfio la pancia, butto fuori, alleggerisco la testa, come se volessi staccarla dal pavimento, e rilasso, stendo tutte e due le gambe al pavimento, quella forza del collo, l'attivazione dei muscoli del collo, deve essere la stessa che sentirete dopo, mani sempre sulla pancia, talloni che spingono lontano, gambe tese, inspiro, gonfio la pancia, quando butto fuori, sgonfio la pancia e alleggerisco le gambe, e rilasso, inspiro, gonfio la pancia, butto fuori, tengo la pancia, alleggerisco le gambe, e questa deve essere la forza degli addominali, tenendo la pancia sempre in dentro, senza buttare un fuori, quando saliremo, ginocchia piegate, piedi uniti, mani lungo il corpo, facciamo i ragnetti salendo, inspiro, tengo la pancia, trattengo la pipì, butto fuori, cammino, cammino, salgo, il collo è rilassato, e la pancia risucchiata dentro, e scendo, e due, vuoto bene le coste, e scendo, e tre, e scendo, e quattro, e scendo, 5, e scendo, 5, e scendo, 6, tengo bene gli addominali, scendo, 7, 3, tengo la pipì, tengo la pancia, 8, 9, e 10, rilasso, lascio la testa a destra e a sinistra, porto le mani dietro la nuca, e le gambe in posizione della sedia, se vi dovesse far male la schiena stare così, potete mettere un cuscino sotto il sedere, inspiro, butto fuori, porto sulla testa come se fosse su un bassoio, e ottengo bene la pancia, trattengo la pipì, e rilasso, e due, rilasso, e tre, rilasso, quattro, rilasso, cinque, rilasso, sei, rilasso, sette, rilasso, otto, rilasso, nove, rilasso, ultimo, dieci, rilasso, porto le ginocchia al petto, d'ombolo a destra e sinistra, appoggio le mani, e appoggio i piedi, mi raddrizzo, e porto il ginocchio destro al petto, stendo la gamba destra, in modo da far andare il ginocchio destro appiccicato al ginocchio sinistro, quando si toccano, stringo leggermente le gambe una contro l'altra, e torno, e due, stringo, e torno, tre, stringo, e torno, 4, stringo, e torno, 5, stringo, e torno, 6, stringo, e torno, 7, stringo, e torno, 8, stringo, e torno, 9, stringo, torno, 10, stringo, e torno, ginocchio destro al petto, tiro, rilasso, e cambio gamba, sinistra al petto, inspiro, butto fuori, stendo, avvicino le due ginocchia, stringo le cosce una contro l'altra, e torno, e 2, stringo, e torno, 3, stringo, e torno, 4, stringo, torno, 5, stringo, torno, 6, stringo, torno, 7, stringo, torno, 8, stringo, torno, nove, stringo, torno, dieci, stringo e torno, ginocchio al petto, rilasso e appoggio. Adesso stendo la gamba destra tenendo le ginocchia unite e il tallone che spinge lontano. Ruoto la gamba destra in fuori in modo da portare le dita di lato e il tallone verso il soffitto e torno dritta e due, ruoto la gamba e torno, non devo staccarla, le cosce sono sempre attaccatine. Tre, torno, quattro, torno, cinque, torno, sei, torno, sette, torno, otto, torno, nove, torno, dieci, torno, ginocchio, destro al petto, tiro e cambio la gamba, stendo la sinistra, tallone sinistro che spinge lontano, ruoto la gamba. Uno e torno, due, torno, tre, torno, quattro, torno, cinque, torno, sei, torno, sette, torno, otto, torno, nove, torno, dieci, torno, rilasso. Come va? Fatemi un segno. Stendo la gamba destra, di nuovo sempre con le cosce unite, ruoto la gamba, faccio scendere la gamba destra lungo la tibia sinistra, sfioro il pavimento e la riporto su. E vado, scendo, scendo, scendo e salgo un pochino più veloce. scendo lenta, salgo veloce. E quattro e su. E cinque e su. Tallone verso il soffitto. Sei e su. Sette e su. otto, su. Nove, su. Dieci, su. Ginocchio al petto, rilasso. sinistra, stendo la gamba sinistra, ruoto il piede e ruoto tutta la gamba. Scendo lenta e salgo veloce. E due. E su. E tre. Su. su. Quattro, la gamba sotto ve ne ferma. Su. Cinque, su. Sei, le mani e la gamba sotto mi servono come ancoraggio. otto, per non muovere il bacino. Nove, su. Dieci, su. Ginocchio al petto. rilasso. Ristendo la gamba destra. Ruoto sempre in fuori. Adesso porto la gamba verso di me. Più possibile. Uno, senza alzare il bacino. Con il bacino appoggiato, ma la porto più possibile verso di me. E torno con le gambe unite. E due. E scendo. E tre. La gamba sotto. sempre ferma. Quattro. E cinque. E sei. E occhio a non piegare il ginocchio. Piuttosto mi fermo prima. Sette. E otto. E nove. Dieci. E scendo. Rilasso. Cambio gamba. Cambio gamba. Stendo la sinistra. Ruoto. Sempre tutto fermo. Vado su. Uno. E due. E tre. E quattro. E cinque. Giù. sei. Giù. Sette. Giù. Otto. Giù. Nove. Giù. Dieci. Giù. E ginocchio al petto. giù. Giù. Giù tutti e due i piedi. Metto le mani dietro la nuca di nuovo. Adesso porto sulla testa e contemporaneamente porto il ginocchio al petto. Prima al destro e poi al sinistro. Su. Mi chiudo. Mi chiudo. Dritte. Eh. Senza chiudere i gomiti. sempre i gomiti ben aperti. E scendo. Le spalle drittissime. Non fatevi pensare dall'andare storte perché c'è solo una gamba. Due. Resistete. E scendo. E di nuovo. Destra. Su. Scendo. Sinistra. Su. e scendo. E cinque. E giù. E sei. Giù. Collo super rilassato. Sette. Giù. Otto. Attivo bene gli addominali. Giù. nove. Giù. Giù. Dieci. E giù. Rilasso. Lascio le braccia. E giro la testa. Ok. Passiamo sul fianco. E ci tiriamo su. le gambe stese. Talloni che spingono lontano. Le mani sulle cosce. Mi rilasso. Spingo le mani nelle cosce. I gomiti verso il pavimento. Allungo la schiena. Dal centro della testa. Le orecchie che vogliono andare a sorfitto. E rilasso. Vado. Spingo le mani. Giù le spalle. Le orecchie diventano a punta. Gli addominali tenuti. Tengo dentro la pancia. Trattengo la pipì. E rilasso. E vado su. E rilasso. E vado su. E rilasso. E vado su. E rilasso. Vado su. Cammino. Cammino su. Cammino. Cammino con le mani in avanti. E vado con la pancia verso le cosce. Quindi non divento gobba. Ma con la pancia verso le cosce. Arrivo al massimo se riesco anche a prendere le dita di piedi. Va bene. Va meglio. E torno indietro. E vado. Cammino. Cammino in avanti. La pancia vuole andare dalle cosce. Resistete alla tentazione di curvare la schiena. E torno indietro. E vado avanti. E torno indietro. E ultimo. vado avanti. Vado a prendere le dita dei piedi. Se non riesco va bene anche le caviglie. E curvo la schiena. Mi guardo l'ombelico. inspirando. Appiattisco la schiena. Porto giù le spalle. Apro i gomiti. Li piego leggermente. E spingo la pancia nelle cosce. Butto fuori. Curvo la schiena. Inspiro. Appiattisco la schiena. la pancia nelle cosce. Apro leggermente i gomiti e abbasso le spalle. E di nuovo. Curvo la schiena. E vado. Appiattisco la schiena. Piano piano dovreste riuscire ad andare sempre un pochino più giù. Curvo la schiena. Ultimo. Appiattisco la schiena. Mi allungo. Mi allungo. sgancio le mani. Le porto di lato. E salgo. Tipo aeroplano. Con la schiena lunga lunga. E rilasso. Ok. Adesso. Ginocchia piegate. Piedi sempre aperti come il bacino. Le mani dietro le ginocchia. Mi allungo. Mi appoggio bene sui dischi. Mi siedo bene. Butto fuori l'aria. Curvo la schiena. Mi guardo l'ombelico. Vado indietro. Finché riesco a sganciare le mani. E torno su. Mi allungo. E vado indietro. E torno su. E mi allungo. Vado indietro. e torno. E mi allungo. E torno. Mi allungo. Vado indietro. E torno su. Piego un pochino di più di più. Le gambe. Abbraccio. Le gambe. Appoggio la testa sulla fronte. E rilasso. ok. Ci mettiamo sul fianco destro. Le gambe stese. Il braccio sotto. Come preferite. ho piegato. Ho steso. L'importante è che la mano sinistra, la mano che sta sopra, il braccio che sta sopra, la mano sia perfettamente appoggiata al pavimento e l'avambraccio controlli la caduta del bacino. Gambe più avanti della linea della schiena. Talloni che spingono lontano. apro e chiudo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Tenete anche gli addominali e le spalle. Otto. Nove. Tutto controllato. Non dimenticatevi mai dei pezzi. Dieci. Rilasso. Stacco leggermente la gamba sinistra. Facciamo quello che abbiamo fatto prima a pancia in su. Cioè ruoto la gamba e tiro sulle dita del piede. E torno. E due. E torno. E tre. Torno. Quattro. Torno. Cinque. Torno. Sei. Torno. Sette. Torno. Otto. Torno. Nove. Torno. Dieci. Torno. Non rilasso. Lascio tutto. Mi rimetto in asse. Sempre con gli addominali tenuti e le spalle giù eccetera eccetera. Uniamo le due cose. Apro la gamba. Svito. Unisco i due talloni. riavvito la gamba. E vado. Apro. Svito. Talloni. Avvito. Apro. Svito. Talloni. Avvito. Quattro. Svito. Talloni. Avvito. Cinque. Svito. Talloni. Avvito. Sei. Svito. Talloni. Avvito. Sette. Svito. Talloni. Avvito. Otto. Svito. Talloni. Avvito. Nove. Svito. Talloni. Avvito. Dieci. Svito. Talloni. Avvito. e rilasso. Lascio. Mi rimetto a posto. Porto le gambe in linea con la schiena. Quindi le porto leggermente indietro. Stacco la gamba sinistra. La destra la raggiunge. E scendono insieme. Apro. Raggiungo. Scendo insieme. Anche piccolissimo. Apro. Raggiungo. Scendo insieme. Quattro. Raggiungo. Scendo insieme. Cinque. Raggiungo. Scendo insieme. Sei. Raggiungo. scendo insieme. Sette. Raggiungo. Scendo insieme. Otto. Raggiungo. Scendo insieme. Nove. Raggiungo. Scendo insieme. Dieci. Raggiungo. Scendo insieme. Rilasso. piego le ginocchia. Male. Porto tutte e due le braccia in avanti con i palmi delle mani. Uno sopra l'altro. Apro il braccio sinistro e lo guardo e vado fino in fondo. Se non avete spazio. Potete mettere la mano dietro la nuca. Stiro bene il gluteo e la schiena. Piano piano strisciando la mano sinistra. Torno. E mi tiro su. Per fare tutto dall'altra parte. ci tocca. Allora. Mi piazzo bene. Talloni che spingono lontano. Gambe più avanti della linea della schiena. La mano destra bene appoggiata. L'avambraccio sostiene la pancia. apro e chiudo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Rilasso. spingo. Apro. Ruoto il piede. Uno. E torno. Due. E torno. Tre. Torno. Quattro. Torno. Cinque. Torno. sei. Torno. Sette. Torno. Otto. Torno. Nove. Torno. Dieci. Torno. E scendo. Rilasso. Uniamo le due cose. Apro. Svito. Talloni. Avvito. 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 Ultimo. Apro. Svito. Talloni. Avvito. Rilasso. Porto tutte e due le gambe in linea con la schiena e vado. Apro, raggiungo, scendo giù. Due, raggiungo, scendo giù. Tre, raggiungo, scendo giù. Quattro, raggiungo, scendo giù. Cinque, raggiungo, scendo giù. Sei, raggiungo, scendo giù. Sette, raggiungo, scendo giù. Otto, raggiungo, scendo giù. Nove, raggiungo, scendo giù. Dieci, raggiungo, scendo giù. Rilasso, piego tutte e due le gambe. Stendo le braccia in avanti, appoggio la testa, vado lontano con la mano destra e ruoto. Rilasso bene. E torno. E mi tiro su. Come state? Bene. Complimenti per le strofe. Dove sono questo? Eh? Per le strofe, complimenti. Ah! Per memorizzare. Allora, andiamo a quattro zante. Ok. Le ginocchia perfettamente sotto il bacino. Le mani perfettamente sotto le spalle. inspiro, inarco la schiena, guardo il soffitto, butto fuori, retroversione del bacino, le mani spingono nel palimento, allontano le scapole, mi guardo l'ombelico. E vado. Inspiro, inarco, butto fuori, curvo. Inspiro, inarco, butto fuori, curvo. Rimango con la schiena piatta nel neutro. Devo fare il tavolino. Ok. Scivolo con la gamba destra dietro, tallone che spinge lontano, porto su e giù la gamba senza muovere niente nella schiena. Uno, due, tre, sostenete la testa, quattro, cinque, sei, sette, otto. Nove, dieci, scendo, piego le ginocchia, rilasso. Vado in posizione di riposo. Torno, sempre con la schiena super piatta e la testa in linea, stendo la sinistra, spingo il tallone lontano, su e giù. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Appoggio e rilasso. Ritorno a quattro zampe. Stendo di nuovo la gamba destra dietro, tengo bene gli addominali, le spalle sono sempre un po' in spinta. Stacco la gamba destra, la porto in linea con la schiena e il tallone spinge lontano, apro di lato, senza muovere niente nella schiena. E torno, e due, torno, tre, torno, quattro, torno, cinque, torno. Sei, torno, sette, torno, otto, torno, nove, torno, dieci, torno, piego e rilasso. Mi rimetto a quattro zampe, stendo la sinistra dietro, tallone che spinge lontano, porto la gamba a sinistra in linea con la schiena, apro e chiudo. Uno, torno, due, torno, tre, torno, quattro, torno, cinque, torno, sei, torno, sette, torno, otto, torno, nove, torno. Occhio alle teste, non fatele cadere, dieci, torno, e rilasso. Ritorno, schiena piatta, stendo la gamba destra dietro, porto di nuovo sulla gamba in linea con la schiena, facciamo quello che abbiamo fatto in tutte le posizioni, cioè ruoto la gamba, apro le dita del piede e torno dritta. Due, torno, tre, torno, senza muovere il bacino, quattro, torno, cinque, torno, sei, torno, sette, torno, otto, torno, nove, torno, dieci. Rimango ai rimbalzini, rimango a portiere aperte, rimbalzini in su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Rilasso, posizione di riposo. Ritorno a quattro zampe, sinistra, giuro all'ultimo. Spendo la gamba sinistra, sostengo bene la testa, tiro su la gamba sinistra in linea con la schiena, ruoto la gamba, svito. Uno, torno, due, torno, tre, torno, quattro, torno, cinque, torno, sei, torno, ruoto bene la gamba, sette, torno, otto, torno, nove, torno, dieci. Rimango ai rimbalzini, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e chiudo. Rilasso completamente il sedere sui palloni, le braccia lunghissime in avanti. Apro leggermente le ginocchia e lascio cadere la pancia tra le cosce. Piano piano, apro il braccio destro, il sinistro lo raggiunge e rilasso la testa giù. Torno in centro. Apro il braccio sinistro, il destro lo raggiunge e vado a sinistra. E torno in centro. E piano piano lungo su. Ci sdraiamo. Le mani lungo il corpo, i piedi aperti come il bacino, le spalle lontane dalle orecchie, sempre. I palmi delle mani ben appoggiati per terra, i piedi ben appoggiati per terra con tutte le dita aperte. Sollevo il bacino. Srotolo la schiena, una vertebra dopo l'altra, massaggiando tutta la schiena. L'ultima cosa che tocca è stato. E vado di nuovo su. E srotolo, massaggio tutta la schiena. Appiccico al palimento, una vertebra alla volta. E per l'ultimo, salgo e massaggio e vado. Salgo e massaggio. Porto le mani dietro la nuca. Avvicino i piedi, i gomiti sono ben aperti. Senza staccare i gomiti nelle spalle, porto tutte e due le ginocchia a destra. Le lascio cadere. Tengo bene la spalla aperta. Torno. E vado verso sinistra con tutte e due le ginocchia. Torno. A cavallo la gamba destra sulla sinistra. Stretta, stretta, stretta. Come se foste sedute al bar. E vado con tutte e due le ginocchia verso destra. Tengo sempre le spalle bene appoggiate. Torno. e cambio. A cavallo la destra sulla sinistra. E vado con tutte e due le ginocchia a sinistra. E torno. Appoggio i piedi per terra. Metto le mani dietro il collo con i polpastrelli ai lati della colonna cervicale. Infilo le mani sotto. E massaggio come se suonassi il pianoforte tutta la zona cervicale. dalla nuca fino alle spalle. All'inizio delle spalle. E poi torno su. Faccio un po' di volte su e giù. Con i polpastrelli che premono. Ancora una volta. E poi vado giù fino a raggiungere i trapezzi. Quindi chiudo i gomiti. E metto le dita sul trapezio. E buttando fuori l'aria. Stringo come se strizzassi due spugne. La parte della spalla. Del collo più bassa. La base del collo. Il trapezio. Il muscoletto che si contrae. Stringo con le mani come se strizzassi due spugne. E rilasso. E stringo. E rilasso. E stringo. Rilasso. Ultima volta. Stringo. E rilasso. Stendo le gambe al pavimento. Appoggio. Appoggio le braccia. Giù. Mi allineo. Allineo le gambe al bacino. Il bacino alle spalle. E la testa. Perfettamente verso il soffitto. Le mani. Ugo il corpo. E sento come appoggia tutto il corpone al pavimento. e faccio tre respiri profondi con la pancia che si gonfia. e se esgonfia. E se esgonfia. E se esgonfia. Inspira o gonfio. E fora esgonfia. Forza. Inspira o gonfio. Che è fuori. E fuori sconfio. si lancia la mandibola stacco la lingua dal palazzo e sento l'aria che passa liberamente dalla gola e piano piano sul fianco mi metto in posizione petale lascio completamente tutto il peso del corpo nel pavimento testa spalle sgancio gli addominali rilasso completamente la pancia bacino e piano piano con un respiro profondo gli occhi e con l'aiuto delle mani lasciando il peso della testa per terra come state